buonasera a tutti in realtà abbiamo già un po chiacchierato prima cercando di così riprodurre quella che è la caratteristica degli incontri di aipi di persona quando si potevano e si ripotranno fare a breve di persona e cioè il ritrovarsi tra amici i colleghi per il piacere di approfondire degli argomenti ma anche per il piacere di chiacchierare e di vedersi io in realtà mi limito a portare i saluti di aipi che di tutto il gruppo italiano che partecipa sempre con estremo piacere a queste iniziative del gruppo giovani perché sono frizzanti diciamo caratterizzate da una novità e freschezza di argomenti quindi ringrazio tutti ringrazio gli organizzatori ringrazio i relatori e ringrazio da ultimo la figlia del nostro socio antonio bana che studia medicina ma si diletta di fumetti e di disegno e che ci ha concesso l'uso di uno dei suoi disegni per la copertina di questa eh la locandina di questa iniziativa non dico altro eh e e lascio la parola a chi deve parlare con contenuti di sostanza eh anticipiamo questi non sono ancora contenuti di sostanza ma mera presentazione il secondo io sono chiare assieme con Lorenzo facciamo i chair come si dice nel gergo di aipi del gruppo giovani pur non essendo ormai quasi così tanto giovani eh il nostro secondo aperitivo di proprietà industriale purtroppo come diceva Paolina anche questo si svolgerà telematicamente ma siamo tutti eh attrezzati per eh con l'on delivery eh speriamo di poterci incontrare e prendere degli aperitivi di persona per chiacchierare eh dopo esserci occupati del vino questa volta abbiamo deciso di occuparci di fumetti eh anche questo un argomento non sempre protagonista delle cronache in particolare giudiziarie e eh di ipi fortunatamente la messa in onda di strappare lungo i bordi di zero calcare settimana scorsa eh ci ha dato un enorme battagio pubblicitario eh per l'evento e niente adesso passo la parola a Lorenzo che introdurrà i nostri amici e relatori di questa pomeriggio. Buonasera a tutti io ovviamente mi limito a ringraziare tutti voi partecipanti perché è sempre bello eh riuscire a ritrovarsi eh anche intorno argomenti a volte meno seri o comunque affrontati meno seriamente quindi voglio eh lasciare subito la parola al primo dei nostri relatori Luca Baino che ci spiegherà un po' che cos'è il fumetto anche come fenomeno soprattutto socioculturale con particolare riferimento al nostro paese. Luca ti lascio la parola eh mi tocca il ruolo di poliziotto cattivo quindi ti chiedo di stare nei tempi e semmai ti richiamo. Va benissimo va benissimo Lorenzo eh mi mi sono esercitato forse ce la farò eh tra l'altro grazie eh non so se è un caso o meno ma hai azzeccato l'accento del mio cognome non succede quasi mai non succede quasi mai quindi grazie mille l'ho apprezzato moltissimo eh grazie in realtà grazie a voi per l'invito e per l'opportunità eh è un piacere essere qua eh anche perché insomma è bello parlare delle cose che amo che fanno parte della mia vita lavorativa è bello anche farlo con persone nuove e diverse una cosa è un continuo stimolo quindi davvero sono sono molto contento di questa opportunità e insomma due righe veramente due di presentazione appunto mi chiamo Luca io sono un freelance dell'editoria italiana eh principalmente docente presso le sedi di Genova e Torino della scuola internazionale di comics dove insegno sceneggiatura ed editoria poi il mio lavoro da freelance in realtà nell'ambito editoriale ricopre il ruolo di sceneggiatore e di redattore oppure editor che per usare un inglesismo presso diverse case editrici in Italia insomma cambiate un po' anche nell'arco degli anni però lavorato con alcune delle principali eh come Bonelli, Tunue, Shockdom per citare proprio le 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 ultime un pochettino anche le forse le più famose poi da qualche mese che ho anche il piacere di lavorare con Philip nella sua neonata casa editrice quindi insomma è tutto è tutto un continuo cambiamento l'ambito lavorativo da freelance ma insomma lo sapete anche meglio di me ehm proprio perché ho passato lavorativamente all'interno di diverse realtà editoriali mi sono relazionato sia al fumetto di stampo più popolare quindi se vogliamo da edicola sia quello più legato alle cosiddette graphic novel comunque appunto la versione libro di lusso dei fumetti all'interno delle delle librerie e volevo un po' con voi fare un velocissimo escursus di quelli che sono stati gli ultimi sessanta settant'anni di fenomeni fumettistici popolari in Italia attraverso per la precisione sei eh brand che secondo me tutti quanti qua dovremmo conoscere o comunque ci è capitato probabilmente di leggere nella vita quantomeno anche solo di sentirne parlare quindi quelli proprio più popolari e più diffusi nell'arco nell'arco di questi decenni ehm allora fumetti in Italia li facciamo dall'inizio del novecento eh quindi cioè io la prendo che partiamo dagli anni sessanta ma insomma perché l'intervento deve durare poco quindi devo anche darmi delle regole non possiamo fare un escurso storico così profondo però diciamo che eh tra negli anni sessanta c'erano due fumetti che eh tenevano banco eh sul mercato uno era Tex Wheeler l'altro era Topolino parto da questi due perché sono i due titoli in realtà che ancora oggi se quando dico a qualcuno ah io lavoro nella vita scrivo fumetti faccio fumetti lavoro nell'editoria a fumetti la risposta di default di solito è ah quindi Tex e Topolino partiamo da Tex e Topolino perché statisticamente è qualcosa che bene o male tutti quanti conoscono ehm sono sono due prodotti all'antipodi tra l'altro perché a prescindere da tutto Tex nasce come prodotto per un pubblico di adulti Topolino è un prodotto per bambini punto cioè c'è questo proprio questa grossa distinzione che tuttora permane e rimane il io parlo degli anni sessanta anche se Tex nasce nel 48 Topolino ben ben prima ma negli anni sessanta c'è il boom c'è il boom dei fumetti negli anni sessanta eh si vendono cifre da capogiro inizia la cosiddetta golden age che durerà per più o meno una ventina d'anni fino diciamo la seconda metà degli anni ottanta in cui qualunque operazione commerciale da un punto di vista proprio fumettistico da edicola funziona certo Topolino e Tex vendono cifre da capogiro centinaia di migliaia di copie al mese nel caso di Tex centinaia di migliaia di copie alla settimana nel caso di Topolino eh raggiungeranno poi negli anni ottanta negli anni novanta il record del milione di copie a numero che durerà un po' un periodo limitato ma un milione di copie al mese c'è una roba poi di testa ehm però ecco quelli sono gli anni in cui c'è proprio molto fermento e eh molto come dire molto interesse cioè tutti mh si interessano al fenomeno è un fenomeno di intrattenimento un fenomeno che viene anche però visto come qualcosa di ehm scarso valore proprio anche economico tant'è che rimane per tantissimi anni l'abitudine di comprare il fumetto e poi eh buttarlo o lasciarlo sul treno eh questo mh perdura anche fino negli anni novanta il collezionismo è un fenomeno che poi si sviluppa molto 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 tempo dopo eh in una in una versione più ampia c'è un terzo c'è un terzo c'è una terza IP mh legata a quegli anni che ci dà ancora un altro spaccato della della popolazione che è Diabolic altro nome famosissimo che tra l'altro perdura tutti questi che ho citato sono ancora in commercio adesso non vendono quanto vendevano allora ma comunque continuano a vendere ancora più che bene Diabolic è un fumetto che eh tascabile è una cosa particolare perché gli altri fumetti da edicola sono piccoli sono edizioni economiche appunto però sono comunque qualcosa che non sta in tasca Diabolic ha questo concetto di marketing invece fondamentale è piccolo perché deve stare in tasca deve essere quell'oggetto che si compra in edicola si mette nella tasca della giacca o nella tasca della borsa e poi si legge appunto in treno nell'autobus spostandosi ma deve essere qualcosa facile da portare dietro questo concetto rimane rimane per per sempre per sempre cioè una volta nato così un prodotto soprattutto poi nell'editoria difficile che cambi e Diabolic anche anche oggi continua con questo formato piccolo da edicola il cosiddetto tascabile pochi altri prodotti riescono a a durare tuttora nell'ambito fumettistico da edicola non ce ne sono di tascabili e soltanto Diabolic l'ultimo sopravvissuto eh arrivando invece un po in tempi un pochettino più più recenti la la cosiddetta età dell'oro poi ovviamente eh diventa l'età dell'argento perché si vende ma non si vende più così bene sono finiscono gli anni ottante iniziano gli anni novanta inizia anche proprio un po un calo eh delle vendite un calo dell'interesse e un cambio di generazione ci sono anche proprio dei problemi legati a come il media intrattiene il pubblico capiamoci text è uguale da ottant'anni è ottant'anni che esistono storie di text ed è sempre uguale anche se ovviamente gli autori non sono più gli stessi e eh i lettori sono anche cambiati la tipologia di racconto le regole e il come si deve narrare quella storia rimane identica quindi se vuoi quella cosa lì la trovi ma se vuoi qualcosa di diverso non c'è questo chiaramente può essere una scelta di mercato che può portare delle sicurezze nel breve periodo però grossi problemi nel medio lungo periodo topolino invece cambia per la cronaca topolino rivolgendosi a un pubblico in una fascia di età precisa cerca con i suoi tempi non sempre azzeccandosi di rinnovarsi e quindi leggere un topolino di oggi leggere un topolino di trent'anni fa mondi diversi vi assicuro proprio mondi diversi se leggete text oggi se leggete un text di trent'anni fa uguale è una roba particolare ma vi giuro è proprio impressionante ehm eh diabolic come text eh anche perché nasce come prodotto per adulti quindi eh in qualche modo non c'è questa concezione che l'adulto possa cambiare se ti piace diabolic d'adulto no ti piacerà per tutta la tua vita d'adulto no non è detto però l'editoria spesso un po queste queste idee queste preconcetti ehm dicevo negli anni però al fine degli anni ottanta c'è un nuovo fenomeno che sconvolge tutti quanti che è Dylan Dogg Dylan Dogg vende tantissimo Dylan Dogg vende come nessun fumetto mai venduto vende o più di topolino per tantissimo tempo e per un breve periodo vende più di text eh superando prima di text arrivando superando prima di text nel milione di copie eh al mese e lo fa per tanti 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 mesi come mai per un'infinità di motivi Dylan Dogg è un mix di tanti concetti diversi e tante tematiche diverse c'è l'horror c'è il mistero quindi c'è la parte intrigante ehm c'è un personaggio che non è più una copia di John Wayne non è più il personaggio duro e puro degli anni sessanta un personaggio problematico drammatico in elaborazione dell'archetipo del noir eh il personaggio dell'investigatore ma che non ama la violenza che non mangia la carne che ehm che ha stemio che non fuma quindi proprio eh che è sempre tormentato questo tormento adolescenziale legato all'amore quindi tutte delle dinamiche in cui tanti lettori di tante 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 fasce di età diversa proprio si rispecchiano cosa interessante tra l'altro una piccola curiosità nei primi mesi Dylan Dogg non vendeva così bene vendeva benino ma dopo sei o sette numeri Sergio Bonelli allora capo della Bonelli Editore chiama Tiziano Sclavi il creatore di Dylan e gli dice guarda Tiziano non va benissimo tu insomma pianifica un po' gli ultimi numeri ma magari al numero dieci dodici lo chiudiamo al numero sei o sette in grana il passaparola funziona e improvvisamente da un mese all'altro ci sono dei dati di vendita incredibili inizialmente pensano che sono sbagliati figure però funziona e tra l'altro prende tantissimo pubblico femminile Dylan piace un sacco alle ragazze anche se all'interno ci sono comunque scene di sesso donne nude il personaggio Dylan è talmente complesso e talmente sfaccettato che colpisce tantissimo il pubblico femminile e vabbè poi insomma Dylan tutto resce ancora chiaramente Tiziano Sclavi l'ha scritto per tanti anni all'inizio poi mollato il colpo si è goduto i soldi e ha lasciato ad altri l'incombenza lavorativa ma insomma come dargli torto a un certo punto c'è un ultimo elemento interessante tra l'altro interessante parlarne qua di Dylan Dogg che ensancisce il successo la comicità perché Dylan ha una spalla questa spalla è Graucio Marx letteralmente cioè è un personaggio che si travesta da Graucio Marx e con tutta l'ingenuità degli anni 80 nessuno si pone il problema che utilizzare l'immagine di Graucio Marx possa ledere i diritti di qualcuno che è giorno d'oggi chiaramente una follia ma è stato proprio così perché non è proprio Graucio Marx ma è un personaggio che interpreta eh sì ma l'immagine uguale quindi è estremamente borderline e questo infatti ha creato tantissimi problemi per l'esportazione estera del prodotto perché la famiglia Marx non ti crea problemi finché rimane in Italia ma nel momento in cui vai all'estero o magari nel momento in cui vai in America beh le cose cambiano eh ma questa questo elemento assurdo comico che fondamentalmente poi raccontava delle barzellette era una chiave del successo di Dylan tante persone compravano quel fumetto perché c'era Graucio che faceva le battute e anni dopo magari avevano smesso di leggere Dylan Dogg ma se parli con qualcuno dice ah sì Dylan Dogg me lo ricordo c'era quel inizio che faceva le battute cioè di nuovo frase classica però dice sì e chissà se è stato una cosa casuale probabilmente sì o una cosa studiata però ecco era un mix delle cose che potevano funzionare rendere veramente molto popolare il prodotto di nuovo per restare su un concetto di contrapposizione comico avventura se da una parte abbiamo Dylan Dogg dall'altra abbiamo Lupo Alberto Lupo Alberto un fenomeno particolare perché diventa un'icona pop potentissima e eh commerciale in un in un modo incredibile con una viralità pazzesca molto più del fumetto cioè il disegno l'icona gli slogan il come l'IP viene gestita e sfruttata eh riesce a come dire veicolare dei concetti e il merchandising venderà sempre molto di più del fumetto non fattorerà fattorerà è ovvio che fattorerà più del fumetto ma proprio raggiungerà col merchandising un pubblico più ampio questo è un fenomeno strano non si è mai più ripetuto con con questa intensità eh poi vabbè il fumetto è diventato anche un cartone animato però ha avuto tutto un escursus molto lungo è arrivato fino negli anni duemila adesso insomma sono sono lì che stanno un po' per chiudere ma insomma si è anche un po' esaurito ecco è stato proprio un fenomeno culturale proprio di di quegli anni tutto questo è proprio per parlare di fumetto popolare perché questi qua sono sono fumetti appunto come dicevamo da edicola e nessuno poteva pensare di vedere realmente un fumetto in libreria finché non è arrivato zero calcare zero calcare nel duemila e dieci inizia a pubblicare duemila in realtà duemila e undici inizia a pubblicare i libri sui libri con la bau con la bau publishing e la bau aveva già questa mission di portare i libri a fumetti in libreria con zero sfondano diventa proprio una riete da sfondamento per cui fanno vedere quanto vendono in fumetti zero calcare alle librerie e le librerie li vogliono appunto non gliene frega nulla neanche di capire perché venda così tanto quali siano i motivi dateci solo questa roba da da vendere che tutti sembrano in fregola di di volere di cosa parla zero calcare della sua vita della sua vita e c'è proprio un cambio radicale cioè non ci interessa più tanto l'avventura il western il mystery cioè tutte le cose che andavano in decenni passati sembra quasi che siamo arrivati a una sorta di neorealismo nella narrativa fumetti quasi come se l'avessimo preso un po dal cinema e quindi c'è il cosiddetto tranche de vie cioè ti racconto i fatti miei la mia vita la vita di qualcun altro uno spaccato della vita di qualcun altro zero calcare ci mette la comicità che di nuovo torne che di nuovo rende tutto quanto un fenomeno commerciale pazzesco infatti come appunto chiara prima citava strappare lungo i bordi che insomma impossibile non sentirne parlare in questi giorni è stato nella top ten di netflix per una settimana al primo posto quindi veramente un fenomeno culturale incredibile pazzesco e in cui tutti si rispecchiano zero calcare parla per banalizzare un po' diciamo alla generazione dei millennial hanno più hanno meno e racconta di drammi problemi adolescenziali problemi della crescita problemi della vita sempre con quel suo modo con questo fare soft con su un suo modo un po' drammatico e piace tanto riesce a fare proprio breccia nel cuore del lettore ultimissima cosa se se posso ancora lorenzo se sono in fase di chiusura 50 secondi manga nell'ultimo anno abbiamo avuto un boom fotonico una roba è un'esplosione i dati di vendita del fumetto giapponese come mai facile facilissimo perché le persone erano chiuse in casa a causa lockdown e nelle piattaforme di streaming venivano trasmessi e mandati un sacco di anime quindi la versione cartoons dei manga la gente annoiata guardava gli anime ne voleva di più ne voleva ancora comprava i fumetti è stato proprio un'esplosione virale veicolata a questa cosa è una quello che sta vivendo il manga adesso è proprio una bolla ci sarà un ritracciamento che sarà fisiologico assolutamente però davvero nell'ultimo anno i manga hanno venduto quanto mai avevano venduto prima ma robe tipo più 30 più 40 per cento sull'anno precedente delle cose da fuori di testa il motivo è questo davvero è proprio il pubblico veicolato dall'animazione portato alla lettura la cosa interessante però è che se io leggo zero calcare mi piace zero calcare probabilmente leggerò solo zero calcare nella mia vita ma se mi piacciono i manga dopo che ho finito di leggere l'attacco dei giganti magari leggerò qualcos'altro questo è un fenomeno interessante niente spero grazie del tempo io cercato di fare un excursus concentrando appunto un po di cose interessanti su vari ip e buttandogli alcune cose su cui magari dopo si possono fare delle discussioni riflessioni e domande ovviamente tutto tutto quello che volete concludo grazie grazie luca perché è stato davvero davvero interessante sia un po questa impressione che sia un po come il fumetto sia come scenerentola si diceva con chiara è sempre stata lì ma nessuno la sta valorizzando e scoprendo quindi per proseguire in questo percorso è opportuno un po di profondità sempre su questi aspetti non giuridici e pre giuridici e quindi ho con molto piacere ospitiamo philippo colombo vitalo francese che ci darà un po lo stesso excursus ma con i nostri cugini d'oltre alpe quindi philippo a te la parola sempre 15 minuti non fatemi fare il cattivo d'accordo grazie lorenzo così sarà molto molto breve possibile all'istare di luca che veramente per questo fu fantastico niente ringraziamenti alla mamma sono metà francese metà italiano vedrai mio italiano e più o meno lo stesso quindi per questo non c'è realmente un problema sono giornalista scrittore ho lavorato molto in francia qualche anni fa ho deciso di partire in barcavella con la mia moglie e con mio bambino abbiamo girato il covido ci ha fermato si siamo ritrovati a torino e abbiamo deciso di fare dei fumetti con la casa editrice e anche con l'aiuto di luca per fare veloce conosco benissimo il mercato francese di fumetto perché è una passione perché il mio lavoro è anche il marketing e quindi la cosa che è estremamente diversa in francia sul livello di fumetti come l'ha spiegato molto bene luca vedrete la differenza è abbastanza evidente che la nostra offerta è molto più importante per questo c'è un motivo che le pubblicazioni italiane sono monopersonaggio voglio dire c'è Dylan Dog, Tex, Primo Tex e più o meno Topolino eccetera le nostre pubblicazioni riviste di fumetti è totalmente al contrario tutte le riviste francese e belga da l'anni 60 Spirou, Tantin, Michè che è l'equivalente di Topolino sono delle pubblicazioni settimanali che hanno bisogno di storie diversi vuol dire che nessuna delle nostre pubblicazioni è completamente legata a un solo personaggio qualche volta è solamente il personaggio di Tantin, di Asterix, di Spirou che sono delle personaggi far, personaggio tipico ma all'interno della rivista ci sono tanti autori diversi tanto personaggi tanto fumetti in grande maggioranza a puntata così vuol dire che ci è sviluppato con le riviste francese una diversità di produzione fumettista assolutamente incredibile e a tutti i livelli per bambini per adolescenti per più grandi vuol dire che la gente sugli anni 60 e 70 quasi tutte eravamo interessate ai fumetti magari il fatto che il fumetto fino alle anni 80 è rimasta qualcosa soprattutto per giovani bambini ma si è sviluppato anche un fumetto umoristico satirico e qualche volta erotico che è legato anche al pubblico adulto e che si è sviluppato tramite anche delle riviste verso le anni 70 vuol dire che la prima differenza che possiamo avere e vedere fra Italia e Francia è la diversità di produzione noi abbiamo niente puntato su dei personaggi unici ma tutto su delle riviste con molti storie molti personaggi tutte le settimane quindi evidentemente eh la produzione eh ha dovuto andare avanti perché eh sono delle riviste che avevano delle tiratura eh 500.000 un milione qualche volta due milioni di copie alla settimana vuol dire e per questo questo successo hanno voluto anche direi eh solidificarlo metterlo veramente forte facendo anche delle delle dell'album quindi siamo passate alla storia appuntata all'interno delle riviste a delle libri che contrariamente la seconda differenza rapporta l'Italia che al contrario dell'Italia che ha fatto delle cose che si poteva buttare la france che si conserva vuol dire sono cartonati grandi formati sono delle cose anche che si collezionano ma dall'inizio vuol dire nessuno penserà una seconda per un album di Asterix e di buttarlo o di lasciarlo in treno questo non si può pensare vuol dire lo portiamo a casa e lo mettiamo ehm e la scadenza di questa pubblicazione era più lunga con delle cose più grande più più eh direi più bella a livello estetico ma anche più molto più ehm molto più stretta vuol dire 48 pagine fu per molto tempo il formato ehm standard del fumetto eh francese e aspettare un anno per avere le seguiti di un'avventura era anche la norma quindi c'è sviluppato ancora di più eh la rivista che faceva eh direi eh aspettare eh l'elettore fra due eh produzione di album ma tutta la diversità di ehm dell'offerta francese ha fatto che la gente non si è non si è mai stancato non perché il problema di un personaggio è con Tex o con Topolino tutti i personaggi anche se loro eh hanno un'evoluzione ma bisogna dire come tutte le cose al mondo nasce crescono e muovono al peggio o al migliore ci sono qualche fan che rimangono un po' attaccato ma di solito eh è questa ehm è questa eh esistenza che eh aspetta un personaggio e un zero calcare per parlare di lui da noi in Francia ci sono migliaia voglio dire abbiamo un sacco di gente che hanno fanno dei successi tipo risultati e hanno tutti un pubblico tutti sono ehm come dire avranno una 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 fine ma non tutti in stesso momento e evidentemente stanno anche eh ripensato da altri quindi effettivamente eh eh al livello solo marketing abbiamo fatturato cinque o sei volte più importante che l'Italia e una visione anche più grande del eh del fumetto e il fumetto è un fenomeno sociale che tocca a tutti perché questa diversità ha fatto che poco a poco le autori soprattutto e gli editori sono detti ma come interessare ancora di più il nostro pubblico quindi una grande maggioranza dei fumetti francesi ehm si appoggiano sulle passioni della gente vuol dire ci sono molto molto fumetti rapporto al sport rapporto alle ai lavori c'è un fumetto su ehm il professore un fumetto su ehm su quasi tutte le professioni con di solito un po' di umorismo eh su sulle professioni è un po' un po' abbastanza satirico però funziona sono delle delle serie che fanno trenta quaranta ehm puntata e che si vendono tra cinquecento mille un milione di copie eh a tutti gli album vuol dire sono dei grandi successi anche eh di ehm di eh editoriale e questa offerta è anche estremamente eh sviluppato con una distribuzione organizzata molto organizzata perché tutte le grandi case editrici hanno fatto una cooperativa di distribuzione la più grande eh direi eh più grande sistema distributivo di fumetto in Francia si chiama MD e è fatto da la Delcour, della Dupuis, quasi tutte le grandi case editrici franco-belghe effettivamente con questo hanno potuto mandare il loro il loro lavoro a quasi tutti le librerie ehm perché da noi non ci sono tante fumetterie ehm quasi così eh è qualcosa che la il fumetto si ha la a una distribuzione molto ampia in libreria e anche in centro commerciale vuol dire tutte le ehm tutte le ehm le ehm le centro commerciale tipo Champ, Carrefour vendono delle fumetti ma vendono dicono vendono fumetti che vedete un po' un 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 riparto libri ehm non so su un centro commerciale e beh in Francia c'è questo riparto libero e lo stesso eh dedicato al fumetto sono centinaia di fumetti da vendere al centro commerciale risultato e questo si vede da meno venti venticinque anni quando la gente va a fare le spese con i bambini o anche adolescenti li lasciano al riparto fumetti loro prendono i fumetti evidentemente c'è sempre uno che non è su blister leggono e mangono qua quando le le genitori ritornano riprendono il bambino e anche il fumetto che sta dicendo perché no si fa no aiutare un bambino a leggere anche un fumetto evidentemente tutto questo ha fatto che il fumetto oggi da sette anni a sei anni a eh a cento anni è diventato veramente un successo per tutti queste eh abbastanza importante questa visibilità l'offerta cento per cento rapporto alle riviste la distribuzione è estremamente organizzata e completamente ehm gestisce dall'editore fino alla al distributore al commercio al negozio e un'accessibilità dunque veramente grandissima rapporto a a tutta l'età ha fatto che il fumetto è diventato un grande successo all'inizio c'erano le stesse nicchie ci saranno le stesse ci sono ancora stessi appassionati tutti però ci sono appassionati un po' per tutti i tipi genere diversi e personaggi diversi che sono molto più ehm numerosi in faccia io penso che sa la differenza complessivamente ecco finito eh non so se sono più eh sono abbastanza spero di essere essere abbastanza chiaro perché più parlo veloce meno parlo bene eh il problema è un po' questo Filippo non solo sei sei anche in anticipo abbiamo anche fatti minuti quindi se vuoi aggiungere qualcosa fai pure beh aggiungere direi che in Italia ehm ci sono delle buchi da riempire eh adesso ci sono ehm ci sono delle buchi marketing vuol dire che effettivamente come diceva Luca c'è un pubblico eh dedicato ai personaggi bonelli un pubblico per i personaggi Disney un pubblico per tipo di produzione ehm come come Zero Calcare e anche eh adesso un nuovo pubblico per il manga ok ma tutta una produzione di eh fumetti eh direi ehm dove già il disegno il disegno è e portato molto più avanti perché il problema di tutte qua le produzione che abbiamo parlato in Italia eh Bonelli disegno carino a me piace molto eh la produzione di Bonelli veramente eh ma tutto bianco nero con un formato che non non dà veramente una una bella perspettiva al disegno non dà veramente la sua importanza il disegno ehm prendete quasi quasi una grande parte della produzione italiana che è ben fatto che è bello sono grandi artisti però in contraddizione totale con il spirito del paese che è molto artistico molto di più che la Francia arriviamo a un punto finalmente il fumetto è brutto scusi non voglio essere cattivo per niente ma per me un Dylan Dog non è una bella cosa estetica interessante bella da leggere eh per un sacco di motivi affascinanti ma a livello fumettista per me culturalmente no vuol dire per me un bel disegno eh vuol dire che un bel fumetto un fumetto già con un gran formato e con delle disegni a colore che valorizzano il prodotto artistico perché finalmente perché fare un fumetto vuol dire costa di soldi e è complesso vuol dire se non c'è da possibilità di dare un'importanza veramente eh incredibile al disegno meglio di fare un narrativo costa meno rapporto a più soldi eh vuol dire per fare un fumetto deve essere eh come dire eh legato al bisogno di dimostrare con il disegno che c'è qualcosa da fare con il disegno così questo disegno per me deve essere bello è vero che in Francia la produzione delle fumetti grande formate è stupendi vuol dire eh sì non ho la possibilità e lo è un peccato perché avrei potuto fare un slide veramente vi faccio vedere la differenza fra eh delle fumetti eh eh le fumetti eh dei disegni eh dei dei formati francesi rapporto in formato italiano vedrete che non c'è niente da vedere la il comodi tutto è che queste disegne spesso sono fatte da italiani che vanno a lavorare in Francia perché loro non trovano in Italia la possibilità delle case editrici che valorisano così le loro disegno e per questo un po' la mia idea di di fare una 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 case editrici in italiano in Italia usare sfruttare le capacità italiane del disegno e anche della segneggiatura per produrre e proponere delle eh delle album di eh di fumetti belli e e che effettivamente eh possono eh possono essere propone e vendute in Italia per me queste è è una regione perché in Italia finalmente il fumetto non ha avuto eh una un questi ultimi anni soprattutto una grande ehm grande fenomeno sociale come in Francia perché il prodotto non è abbastanza ehm diversificato. Questa per me è la la prima cosa e ci manca tutta questa grande produzione direi grande formata a colore che renda che renda eh il disegno eh attrattivo eh bello e artistico. Grazie davvero Filippo. Grazie, grazie davvero. È stato molto interessante gli spunti tuoi e di Luca devo dire mi fanno veramente eh venire accendere tante lampadine però userò solo la Tenten per evocare DuPont e DuPont nella persona di Francesco Abona e di Marta Ghezzi che come al solito prima viene il mercato vengono vengono chi opera e chi lavora e poi arrivano sempre i giuristi che cercano di di capirci qualcosa quindi a questo punto chiediamo aiuto ai nostro al nostro braccio armato eh penso inizi Francesco quindi a te la parola. Grazie mille Lorenzo eh il tempo è tiranno l'ora è tarda quindi io velocizo i ringraziamenti ringrazio tutti eh organizzatori e relatori e partecipanti per la pazienza. Allora abbiamo sentito questa grande dicotomia quindi Francia mercato molto florido molto ricco Italia mercato che è stato ricco noi forse siamo nell'età del ferro se prima eravamo nell'età dell'oro però quella degli eroi non so se ci sia mai stata ma quella del ferro ci siamo dentro abbondantemente mercato molto ricco su alcuni titoli ma mercato paludoso per tutti gli altri. Ok parliamo veramente di fame io ho visto alcuni numeri fanno veramente tristezza ecco per come vengono trattati gli artisti. Io in un precedente intervento avevo definito il fumetto con un parallelo calcistico un'opera d'arte di serie B perché purtroppo in Italia parrebbe un po' esserlo eh se io eh prendo un fumettista gli faccio aprire la legge sul diritto d'autore gli faccio cercare il fumetto probabilmente quell'artista scopre che l'ordinamento italiano gli ha dato una coltellata alla schiena perché non lo troverà mai. Ora qual è la ragione fondamentale? È un fenomeno socioculturale inferiore purtroppo lo dico ahimè visto che sono un amante dei fumetti rispetto ad altri muove meno denaro porta al legislatore avere una minore attenzione e me ne assumo la responsabilità per quello che sto dicendo in questo caso qui il fumetto non ha avuto alcuna attenzione dal legislatore. Cosa succede? Noi sappiamo benissimo noi giuristi che il fatto che non sia espressamente menzionato è un falso problema lo sappiamo però immaginatevi un disegnatore uno sceneggiatore che scopre che la sua opera non è inclusa ci trova la canzone ci trova la scultura ma il fumetto no quindi capite che già da un punto di vista soltanto di dignità artistica un pochino si perde. Il problema invece riguarda anche noi e diventa assolutamente concreto quando il fumetto passa ad essere un'opera plurisoggettiva perché tendenzialmente il fumetto è un'opera plurisoggettiva ci sono dei casi di opera monosoggettiva Chiara capirà benissimo il mio riferimento alle ortolani con Ratman è un'opera monosoggettiva ma tendenzialmente parlando il fumetto è un'opera plurisoggettiva e prendo soltanto un pochi secondi per fare un passaggio diciamo così concreto. Come nasce un fumetto? In il momento genetico tendenzialmente 99.9% dei casi la testa dello sceneggiatore. Lo sceneggiatore ipotizza una sceneggiatura magari abbozza qualcosa a livello grafico oppure non abbozza nulla. Trova un disegnatore oppure il disegnatore gli viene gentilmente fornito dalla casa editrice. Insieme al disegnatore intervengono altre personalità. Ci sono i coloristi, gli inchiostratori, chi si occupa del lettering nei balloon, nei fumettini per intenderci eccetera eccetera. Quest'opera quando vede la luce nascono i problemi. Nascono i problemi da un punto di vista interpretativo. Il primo problema che si è posto è come qualificare quell'opera plurisoggettiva. Ci troviamo di fronte a un'opera collettiva o ci troviamo di fronte a un'opera composta? Dubbio che, vi rendete conto, noi giuristi lo sappiamo, non è di poco momento perché poi le conseguenze sul piano monetario sono assolutamente rilevanti. Altro problema, forse ancora più importante, ancora a monte, è chi è l'autore di quel fumetto? È lo sceneggiatore perché è stato lui a partorire quell'idea? È il disegnatore? Sono tutti e due? E gli altri personaggini che sono intervenuti? L'inchiostratore, il colorista, chi si occupa del lettering? Che cosa sono? Sono degli esecutori tecnici? Sono degli autori anche loro? Quindi capite che i problemi dietro il fumetto sono molteplici. Tempo dietro, siamo intorno al 2009, mi era capitato di leggere un articolo di una collega di Bologna, esperta in IP, che aveva avanzato l'ipotesi di un'estensione analogica della disciplina sugli interpreti ed esecutori al fumetto. Fa un po' storcere il naso, è un po' complicato, io ci ho messo veramente tantissimo tempo a capirlo, ma effettivamente ha un suo senso se lo si collega ai fumetti seriali. Prima si parlava di Tex Wheeler, quindi quei fumetti lì ormai non sono più disegnati da Gallet. Hanno visto nel frattempo tantissimi autori intervenire, autori che come diceva giustamente prima Luca, si collocano in un solco già tracciato dal quale non possono uscire. E quindi questa dottrina aveva ipotizzato l'estensione per i fumetti seriali, quindi per i disegnatori e gli sceneggiatori che intervengono nei fumetti seriali, della disciplina sugli interpreti e gli esecutori. Nel silenzio della norma, che non abbiamo una norma generale che disciplini quest'opera d'arte, il grosso dell'interpretazione è stato offerto dai tribunali, che hanno avuto il merito di tracciare un solco che adesso sta diventando sempre più condiviso e che permette ai fumettisti e a noi interpreti del diritto di avere un inquadramento sistemico del fenomeno. Grazie Francesco per avermi dato un po' un assist per parlare di quella che è un po' l'opinione delle corti in materia. Ho pensato di citare un paio di casi che descrivono bene quale sia lo stato dell'arte. Sono due pronunce della Corte di Appello di Milano. La prima è del 2011 e sostanzialmente la corte si è pronunciata in merito alla collaborazione della celebre coppia fumettistica Max Bunker, che è preciso per i non addetti ai lavori, che era autore della sceneggiatura e dei soggetti di una serie di fumetti, tra cui appunto Criminal, Satanicca, Lanford, Max Magnus e così via. E Magnus, che invece era l'ideatore e disegnatore della parte grafica. I due artisti hanno collaborato per circa dieci anni, hanno creato tutti questi famosissimi personaggi. A un certo punto poi Magnus ha abbandonato questa collaborazione e nello specifico soprattutto il progetto Alan Ford che poi Bunker ha portato avanti con altri disegnatori e sostanzialmente Bunker si è comportato da quel momento come esclusivo titolare della paternità del personaggio, quindi anche dopo la morte di Magnus. Infatti diciamo che la Max Bunker Production ha continuato a pubblicare il fumetto senza mai però riportare l'indicazione del nome di Magnus come autore del personaggio. Ovviamente, inutile dirlo, perché quando ci sono questioni economiche in ballo, gli eredi si sono subito mossi, gli eredi di Magnus, rivolgendosi al Tribunale di Milano prima e poi ovviamente in secondo grado alla Corte d'Appello per chiedere, tra le altre cose, che Magnus fosse riconosciuto come autore e coautore della parte grafica delle creazioni e quindi appunto titolare del diritto morale su questi personaggi. Questa domanda è stata accolta e quindi Magnus è stato dichiarato autore della realizzazione grafica di una serie di personaggi, appunto quelli che ho citato prima, su soggetto e sceneggiatura ovviamente di Bunker. La Corte d'Appello diciamo che si è pronunciata in modo piuttosto netto, stabilendo che i personaggi descritti e ideati diciamo da Magnus e creati graficamente, il contrario scusate, ideati da Bunker e creati graficamente da Magnus hanno preso forma solo grazie alla collaborazione tra i due spunti creativi. Quindi sostanzialmente nonostante gli eredi di Bunker ritenessero che il ruolo di Magnus fosse meramente esecutivo appunto delle indicazioni dello sceneggiatore, in realtà la sentenza ha stabilito che il tratto figurativo del personaggio derivava proprio dall'immaginazione, dalla mano del disegnatore e quindi i due erano in una posizione del tutto paritetica. Questa pronuncia quindi sostanzialmente conferma che le opere fumettistiche sono opere composte nelle quali i vari contenuti creativi, quindi sia quello della sceneggiatura che quello della parte grafica, formano un insieme organico anche se sono dotati appunto di un'autonomia funzionale diciamo. Nello stesso senso si espressa anche un'altra pronuncia tra l'altro nello stesso anno sempre della Corte d'Appello di Milano che ha diciamo si è occupata di un altro caso in relazione al fumetto dal titolo Witch e sostanzialmente in questo caso i due coautori dei disegni del colore della serie a fumetti e in particolare dei cinque personaggi femminili che erano queste cinque streghe diciamo hanno chiesto che fosse accertata la violazione da parte della Walt Disney Company del proprio diritto morale e dei diritti di sfruttamento economico. Nel caso specifico le domande erano state respinte perché appunto c'era un rapporto contrattuale che disciplinava molto bene la gestione dei diritti di sfruttamento economico e poi di fatto in realtà i due coautori erano stati indicati come tali sui fumetti quindi in realtà la Corte aveva ritenuto che non ci fosse stata alcuna violazione però questa pronuncia è importante perché oltre appunto a confermare che il fumetto deve ritenersi un'opera composta come ho già detto prima in un inciso ha affermato che è pacifica diciamo la tutela offerta all'autore dei disegni quindi questo è titolare del diritto morale sui disegni ma allo stesso tempo ha affermato che sarebbe da escludere che la mere di azione o applicazione materiale dei colori possa essere tutelabile quindi sostanzialmente questa pronuncia esclude la sussistenza di un diritto morale essere appunto riconosciuto come autore dell'opera in capo al colorista diciamo in un inciso lo fa tra le righe che però sostanzialmente afferma questo principio. Marta mi passa la parola con una coltellata al cuore perché poi non mi lo sanno ormai che ho questa crociata sul colorista in testa e prima o poi troverò qualcuno che ha voglia di sprecare dei soldi per farmela fare. Avremo un webinar sui coloristi Francesco noi a tutto il mondo lo diffondiamo no ovviamente la corte d'appello avrà deciso in un caso in cui sicuramente colorista non aveva fatto nulla di creativo e quindi ben venga diciamo che la giurisprudenza come dicevo prima ha tracciato un solco un solco che ormai sembrerebbe in gran parte condiviso è difficile trovare qualcuno io parlo ovviamente in linea strata poi il caso concreto bisogna valutarlo che escluda che il fumetto possa essere considerato un'opera composta che entrambi i rapporti grafico e scritto non siano diciamo così siano autonomi scindibili e magari uno sia subordinato all'altro però continua a mancare un dato normativo chiaro e in effetti l'assenza di questo dato normativo chiaro è sentita nel settore dei fumetti tant'è vero che sono state presentate dei progetti di riforma progetti di riforma che adesso Marta poi ce lo spiegherà meglio di come posso fare io sono attualmente al palo perdonatemi il termine e fermi in commissione esaminatrice allora in realtà sono esatto due progetti di legge uno che è stato presentato alla camera nel 2009 uno al senato c'è un disegno di legge presentato al senato nel 2013 quindi un certo numero di anni or sono e che di fatto avevano l'obiettivo di inserire nella legge sul diritto d'autore un riferimento specifico alla forma espressiva del fumetto e quindi diciamo anche inserendolo nell'elenco delle opere composte tipizzate come ad esempio avviene per l'opera cinematografica e sostanzialmente questi testi di legge avevano l'obiettivo di riconoscere diciamo la qualità di coautore e di un'opera cinematografica anche cinematografica di cartoni animati anche agli autori del cartone del dei disegni del cartone animato e oltre a questo intendevano riconoscere appunto una specifica creatività sia il contributo letterario che al contributo grafico che venivano catalogati come elementi essenziali e inscindibili per la costruzione del personaggio nei personaggi a fumetti. Infine poi diciamo questi progetti di legge avevano anche un po' diciamo l'obiettivo di disciplinare a chi spettasse la titolarità dei diritti sulle produzioni seriali ad esempio mensili settimanali di cui parlavamo prima quindi realizzati con l'apporto di autori diciamo dei personaggi delle opere originarie e poi dei collaboratori che prendevano in mano il lavoro e lo portavano avanti anche nel punto nel anche dopo la pubblicazione dei primi numeri e sostanzialmente queste diciamo queste disposizioni prevedevano che lo scrittore e il disegnatore che erano stati gli ideatori iniziali della serie sarebbero stati indicati quali autori o coautori con il diritto di supervisione e invece i collaboratori delle opere a fumette appunto di produzione seriale sarebbero stati invece indicati come autori della propria produzione e proprietari diciamo in percentuale dei diritti sulle stampe riedizioni vendite all'estero e qualsiasi altra forma diciamo di sfruttamento commerciale e diciamo che la definizione del della percentuale veniva lasciata libera alla contrattazione diciamo delle parti però appunto come diceva francesco questi progetti si sono arenati diciamo perché sono fermi in commissione esaminatrice che non ha mai iniziato appunto l'esame e allo stato quindi come dicevamo la tutela viene affidata alle alle pronunce delle corte sostanzialmente io farei ancora visto che c'è ancora un minutino soltanto un flash sul fatto che non tutti gli operatori del settore dei fumetti sono tristi di questa notizia perché molti fumettisti molte sigle sindacali si sono scagliati contro questi progetti di riforma da un lato criticando nella discrezionalità perché in un passaggio le norme prevedono una sorta di criterio proporzionale di attribuzione e proprio è proprio scritto così in proporzione alla lavorazione al tempistiche di lavorazione fra sceneggiature disegni e quindi disegnatori dicevano noi lavoriamo di più di disegnatori disegnatori dicevano che lavoriamo più di sceneggiatori e quindi si creava un battibecco interno in una norma che sostanzialmente non risolveva i problemi che doveva risolverlo l'altra critica ed è di gianfranco goria che un fumettista famosissimo se non ricordo male aveva oltre che per la disney aveva lavorato proprio per tentenga se non ricordo male aveva criticato il fatto che queste norme lasciassero senza tutela tutto quel novero di figure quindi di nuovo il colorista l'inchiostratore lettering eccetera eccetera non dicendo assolutamente nulla su di loro e quindi tanto per scontato il fatto che queste figure fossero semplicemente degli apporti che fornissero esclusivamente apporti di natura tecnica che nulla di creativo aveva vi ringrazio ringraziamo tutti i relatori di questo pomeriggio che ci hanno fornito degli spunti di riflessione interessantissimi e non per sminuire l'apporto del contributo di marta e di francesco ma da giurista ho ovviamente trovato estremamente interessanti le considerazioni contrapposte e le esperienze sensibilmente contrapposte di luca in italia e di flippo in francia e come ci ha fatto notare francesco all'inizio del suo intervento il lato economico è dirimente cioè noi penso cioè ripetiamo sul fatto che in italia la legge sul diritto d'autore parla espressamente dei diritti di trasmissione delle partite di calcio che sono stati inseriti per vari motivi nella legge sul diritto d'autore ma in sé di autoriale hanno ben poco mentre come c'è appena ricordato marta progetti di riforma di quella che a tutti gli effetti è un'opera d'arte ai sensi della nostra legge sul diritto d'autore rimangono fortunatamente al chiodo ma manca un qualunque tipo di disciplina e come faceva notare francesco il fatto che il calcio muova una quantità di soldi infinitamente superiore a quella che fino adesso hanno mosso i fumetti sfiga la ragione di questa differenza e come ci ha raccontato philippe in francia in cui il mercato del fumetto non è limitato al ragazzino o all'ex ragazzino appassionato come ad esempio io sono un appassionata di zero calcare proprio perché mi ritrovo col background anagrafico e di riferimenti culturali però sono appunto casi molto isolati e come ci dicevamo tra noi in italia mancano opere da grandi o non solo esclusivamente ironiche satiriche umoristiche come sono zero calcare ma penso anche a scottex di sio che è geniale ma come fa come ci ha fatto notare philippo a livello grafico è tristino cioè potrei disegnarli anch'io che avevo il debito in disegno quindi cioè manca ancora questa contemperazione tra l'aspetto artistico figurativo e l'aspetto letterario e forse anche un po' il motivo per cui il nostro ordinamento non riesce a considerarli ancora una figura completamente unitaria oltre al fatto che grazie a questa conversazione personalmente mi sono trovata a fare delle riflessioni che non avevo mai fatto sono sempre stata una grande appassionata di Dylan Dogg la problematica del diritto di immagine di Graucio che una volta che Luca l'ha detto è apparsa evidente in tutto il suo clamore il fatto che non mi risulta che ci siano stati problemi in Italia pensando pure a tutto il lavoro della nostra giudestrudenza sulla tutela dell'immagine in sé dei personaggi famosi la parodia eccetera mostra proprio come finché non arriva al mercato noi al diritto siamo sempre a rincorrere dietro è possibile però con questa rinnovata al di là della bulla dei manga ma con queste nuove generazioni di fumettisti con il possibile maggiore risalto anche commerciale da noi cambino un po' le cose posso fare una riflessione anch'io sentendo raccontare le diverse esperienze del fumetto in Italia e in Francia mi è venuta in mente una cosa che non c'entra niente con i fumetti ma è il fatto che la Francia ha sempre affermato il principio dell'unità dell'arte il disegno industriale in Italia che ha avuto tutti i problemi che sappiamo e la cui tutela del diritto d'autore c'è stata imposta dall'Unione Europea in Francia invece è sempre stato tutelato col diritto d'autore questo che cosa significa? Significa che c'è proprio una diversa concezione diciamo dell'opera dell'ingegno tutelabile in Italia è molto snobistica secondo me cioè i fumetti noi li leggiamo ma li lasciamo sul treno in Francia la cultura è diversa si riconosce dignità di opera dell'ingegno di opera d'arte al fumetto io lo prendo lo leggo e poi me lo conservo nella mia libreria esattamente come conservo un romanzo ecco mi chiedo proprio se questo non sia il frutto di un diverso atteggiamento proprio culturale nei confronti del diritto d'autore l'unità dell'ara in Francia in Italia ma solo le opere pure così che appartengono a una certa categoria sono tutelabili ecco questo non c'entra niente col fumetto ma forse sì ma molto interessante Paolina la cosa che a me è venuta in mente e che ha segnalato Filippo è un po' come forse uno degli editori leader del settore italiano alla fine pubblichi delle opere non valorizzandone poi per tutte le loro caratteristiche cioè noi capiamo anche dalla giurisprudenza che alla fine sono opere che nascono grazie al contributo distinguibili e indistinguibili allora non voglio entrare in questo dettaglio di più persone però poi alla fine materialmente l'oggetto che incorpora l'opera non lo valorizza al 100% e quindi tutti si sentono anche magari liberi di lasciarlo sul treno come diceva Luca cosa che invece è inconcepibile forse effettivamente avere una riete da sfondamento che può essere zero calcare che piaccia o no comunque crea un fenomeno commerciale quindi magari anche una maggiore attenzione di chi poi esercita materialmente i diritti cioè l'impresa culturale per pubblicarla al meglio delle sue potenzialità può comportare anche un innalzamento alla qualità del prodotto e quindi poi la necessità di una legislazione un po' più attenta o con normative ad hoc cose che non ad esempio per il calcio non è che mi facciano ma non è solo il calcio poi quella norma è giustificata col calcio politicamente ma poi è generalizzata a qualunque evento sportivo però non ha effettivamente grande senso intervenire così mentre potrebbe avere senso avere più cura e attenzione in fase di interpretazione perché magari ha ragione Francesco in quella singola opera il colorista non aveva colorato particolarmente bene però Francesco questo lo chiedo a te mi pare che ci siano esempi di cartoni in cui il colore la scelta del colore sia forse fondamentale anche al successo stesso il motivo per cui io ne ho fatto una crociata tutta mia è perché proprio come ricordava Filippo prima il corso che avevo ottenuto il diritto d'autore alla scuola di comics questa insegnante fiorentina che è una colorista per la Disney aveva proprio recisamente era stata tranchana no noi facciamo un lavoro come se piantassimo un chiodo nel muro sostanzialmente quindi ci pagano per fare un lavoro poi vabbè l'ottica americana è quella d'altro canto è il World for Ayer e l'oro per cui io lavoro mi paga finisce lì io ho sempre detto è vero che se io colorista il disegnatore mi dice adesso fai la maglietta gialla faccio la maglietta gialla probabilmente di creativo faccio molto poco ma io vi faccio un esempio non è ne concreto così perché lì era un'idea dell'autore e quindi è diverso ma ipotizziamo che Matt Groening quando ha creato i Simpson li volesse fare rosa e il colorista di turno avesse deciso no li facciamo gialli ora dire che nei Simpson l'elemento caratterizzante è il disegno e non il giallo secondo me poi ricordo ieri ne parlavamo con Chiara Lorenzo noi che facciamo IP sappiamo il carattere distintivo del colore ne parliamo in continuazione sui marchi ad esempio ecco dire che nei Simpson il giallo che colora i Simpson non sia l'elemento caratterizzante del fuo e del cartone secondo me è un'aberrazione per cui ovviamente caso per caso bisognerà valutare però secondo me ci sono dei casi in cui è sbagliato essere così tranchant su alcune figure idem l'inchiostratore l'inchiostratore è quello che dà adesso dico un'eresia ma è per far capire in termini banali è quello che dà le profondità al disegno è quello che dà le ombre al disegno è vero che tante volte è un qualcosa di meramente tecnico ma ci sono dei casi in cui il personaggio esce così proprio grazie a quelle ombre quindi dire che il disegnatore qua è l'inchiostratore da qualche parte là in fondo io lo reputo sbagliato a monte e poi ovvio noi siamo avvocati quindi sappiamo che la regola è caso a caso però proprio essere così tranchant nel dire come dicevano le riforme, le proposte di riforma sceneggiatore, disegnatore e tutti gli altri sono dei poveri tappini che prendiamo, paghiamo e non ha nessun diritto se non forse di essere menzionati nel colofo mi sembra un po' sbagliato bene qualcuno ha domande ovviamente siamo riusciti a stare quasi nei tempi sforando solo queste ultime riflessioni conclusive di sette minuti quindi se qualcuno ha delle domande ha piacere di restare con noi a chiacchierare, a finire l'aperitivo si faccia avanti senza timore io se è possibile avevo una domanda buonasera a tutti io per l'occasione mi sono messo davanti la mia libreria di fumetti mi sembrava il luogo migliore per poter partecipare all'evento innanzitutto volevo dire al collega Bona che io condivido la sua battaglia per i coloristi ci sono dei casi dove uno si legga a Ratman Color Special e l'edizione normale vede la differenza abissale che c'è in un'opera che è già completa lì è il fratello però voglio dire le Ortolani più Lorenzo Ortolani fanno una combo micidiale che supera la matematica la mia era una domanda l'annetto della condivisione sulle riflessioni giuridiche era però per Luca che riguardava secondo me un po' un'assenza nella narrativa sicuramente per motivi di tempo che è quella del fumetto americano però perché più che altro volevo sapere se questa è una sensazione che ho io che lo leggo da tanti anni quanto l'elaborazione cinematografica ma non quella dei primi 2002 quella dell'MCU dal 2008 in poi ha avuto un'influenza sul mercato del fumetto statunitense perché noi abbiamo due macro filoni quelli degli X-Men con la Fox che vabbè tanto la Fox è stata acquistata da Disney e l'MCU che hanno fatto dimenticare i primissimi esperimenti Sony, Hulk eccetera eccetera neanche troppo dovremmo vedere i trailer del prossimo Spider-Man quanto ha avuto influenza sul mercato del fumetto americano in Italia? Scusate un attimo una precisazione prima della risposta di Luca e questo a tutti visto che siamo hippi giovani ma aperti anche non giovani con l'MCU si riferisce al Marvel Cinematic Universe e a tutti i famosissimi e campioni di incassi film della Marvel che dal 2008 con Iron Man, Capitano America eccetera hanno avuto un enorme successo Paolina ride perché sa che la spiegazione era per lei comunque scusa Luca ma allora Federico giusto immagino dal nome? Francesco ah Francesco ok scusami ti mancherebbe allora ma sì allora ovviamente ho tralasciato tutto il discorso del mercato americano per questioni di tempi di discorso allora a livello di vendita ha impattato molto bene in America ma molto bene cioè veramente ha riportato proprio in auge un sacco di personaggi tenendo conto che davvero la Marvel quando è partita prima di essere assorbita da Disney quindi diciamo col primo Iron Man del 2008 è partita proprio con i personaggi meno famosi cioè adesso Iron Man ha avuto una vita editoriale travagliatissima cioè piene serie aperte, chiusa, aperte, chiusa, aperte, chiusa aperte, chiusa per decenni quindi è partita veramente un po' in sordina questa operazione cinematografica però ci avevano puntato molto e hanno detto facciamo una cosa fedele ai fumetti cioè proprio cercando di essere il più coerenti possibile con la nostra narrazione fino adesso poi va dalla Disney, tutta una serie di cambiamenti in Italia non è cambiato così tanto cioè non ha portato dei grandi cambiamenti a livello di vendite io non so spiegare esattamente perché io credo soprattutto per i difetti che ha sollevato Filippo a proposito del mercato americano perché poi non si ragiona in una chiave commerciale di marketing funzionale dici vabbè ok esce il film allora il film farà sì che questi prodotti si vendano da soli questa roba del si vendono da soli che è una frase che nella mia vita ho sentito dire da tantissimi editori troppi è proprio la porta al disastro perché poi non è vero magari fai uscire un paio di volumi speciali perché esce il film non so dico di Carnage l'ultima roba uscita dalla Fox e allora fai quei due volumi su Carnage in occasione del film che sì va bene magari un po' vendono però è una vendita minima che cavalca un momento e poi finisce lì cioè non riesci a prendere dei lettori nuovi o vecchi che poi effettivamente rimangano ci si riesce a volte con personaggi particolari o con serie particolari tipo la serie che è appena uscita su Disney Plus di Occhio di Falco è legata a un ciclo particolare che è stato ristampato con il di Fraction e Aya che è un gioiellino proprio di narrativa che è una cosa talmente specifica che chiaramente quello venderà però è un caso veramente unico con l'uscita del nuovo ecco con l'uscita del nuovo Spider-Man a Natale non è che a gennaio i ragazzini andranno a comprare l'uomo ragno no, cioè questa cosa qua non funziona in Italia proprio per niente in Italia chi ha scoperto il mondo del fumetto americano con i film ha poi riversato il suo amore da fan su altro Hot Toys per la cronaca gli Hot Toys sono i diciamo l'action figure i babaccio i miei papà e mia mamma li chiamavano babaccio quando ero piccolo quindi comunque l'estate dei personaggi in formato diciamo in queste dimensioni più o meno belle, dettagliate molto 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 belle molto anche costose ecco comprano questo vanno su una gadgetistica vanno sulle riproduzioni Lego vanno su altro che rievoca il film ma la materia prima del fumetto rimane qualcosa di un po' difficile anche spaventati dalla forte continuity perché dicono ah però sono 80, 60, 90, milione e mezzo di anni di storia di fumetti come farò a capirci qualcosa e questo però ragazzi è un problema di comunicazione di marketing e giusto in relazione a questo Luca volevo farti una domanda di follow up ok per i filmetti Marvel che sono in serie ma ad esempio per le singole graphic novel da quello che ne so ad esempio 300 ad esempio anche semplicemente aspettate che ho un momento di buco ho anche comprato l'albo originale è stato oggetto di una serie con una sola stagione di Sky di questa cosa e il protagonista è blu aspettate ah e Watchmen è di Watchmen ok si verifica questo non passaggio anche con le monosele oppure da quanto ne sai una cosa come Watchmen che alla fine è un unico libro più facile è più facile cioè vuoi leggerti Watchmen con 20-25 euro compri il volume c'è tutto lo leggi poi se vuoi scoprire gli spin-off l'universo aspanso tutto quello che può essere l'approfondimento di un'opera con altre cose uscite dopo ok però il punto di inizio diciamo per approcciarsi alla lettura di questo mondo narrativo è facile ti compro il primo volume fatto dall'amore David Gibbons e tanti saluti 300 ti compri l'opera di Frank Miller e saluti di nuovo questo è facile cioè e questo però di nuovo è un problema di comunicazione e marketing puoi rendere facile anche una continuity serrata di 70-80 un milione e mezzo di anni di storie perché? perché gli americani su questi sono dei geni ragazzi ogni 5-6 anni fanno operazioni commerciali ed editoriali che azzerano più o meno la maggior parte degli elementi di continuity per invogliare nuovi lettori ad approcciarsi senza questo bagaglio impegnativo di decenni di storie è solo che chiaramente ma lo vedo anche sui forum sui forum sui canali youtube o su altre cose dove ci sono poi commenti ah ma come faccio ad approcciarmi a questa opera appunto ho visto il nuovo Uomo Ragno bellissimo io continuo a chiamarlo Uomo Ragno tra l'altro perché appunto lo leggevo quando si chiamava Uomo Ragno come faccio da dove inizio a leggerlo e poi le risposte spesso e volentieri sono non commerciali ma diamanti dell'Uomo Ragno allora per capire tutto l'Uomo Ragno devi leggerti 20.000 volumi citati dici no vabbè a posto così ma è chiaro si può lavorare su queste cose quando l'opera è più semplice nel caso del graphic novel o volume autoconclusivi no lì la vendita c'è e chiaramente beh una vendita che dura nel momento quando è uscito Watchmen poi Watchmen è un'opera talmente citata che cioè ne è uscita una nuova edizione un anno fa e parlavo col mio fumettaro di fiducia e ci chiedevamo ma chi è che non ha ancora Watchmen cioè hai stampato così tante volte negli ultimi 20 anni chi è che sente ancora la necessità di comprare Watchmen in questa nuova edizione però l'anno scorso su Amazon era introvabile io l'ho dovuto comprare in inglese perché l'edizione italiano aveva dei tempi di consegna di sei mesi è pazzesco è pazzesco io non so quante coppie siamo state venute in totale in tutte le edizioni in Italia ma è un fumetto davvero viene ristampato regolarmente da quasi 40 anni comunque sì sì niente scusami divagato un po' però insomma spero di essere riuscito a rispondere a entrambe le domande assolutamente benissimo qualche altra domanda scusate Lorenzo nel frattempo si è sconnesso Filippo io volevo aggiungere qualcosa a quello che diceva Luca ma è vero che spesso trovo che il rapporto tra fumetti e film non è evidente perché appunto finalmente un film e un fumetto sono delle cose così diverse e anche antagoniste qualche volta voglio dire perché un fumetto finalmente è un film staccato un film è continuativo ma non apporta qualcosa di più vuol dire se tu vedi per esempio un film che in questo film c'è un narrativo da leggere ma perché no vuol dire perché effettivamente farà partire l'immaginazione e altre entrambi il contrario per un film quando quando leggi un film un libro e che tu sai che c'è un film che è uscito di questo libro hai voglia di vedere perché per vedere se la tua immaginazione è in rapporto con il film trovo che questa cosa con il fumetto e il film non funziona perché finalmente quando vedi un film beh sei deluso da guardare il fumetto perché è un sottofilm in qualche modo ma è molto più è molto più vero quando ci tratta del cartoon per esempio il film il fumetto e il cartoon sono molto legati appunto è vero che vediamo molto beh l'ha menzionato anche Luca per il manga il cartoon manga ha fatto un grande successo e la gente si è andata a vedere anche il manga come fumetto perché effettivamente c'è qualcosa che ha una correlazione abbastanza legata ma è vero che finalmente la produzione Marvel dei film hanno superato le fan dei fumetti ma finalmente non hanno fatto più vendita di fumetti perché effettivamente quando vedi un film perché vedere un fumetto non ti ha portato tanto cose in più finalmente no? è una domanda è una riflessione ma è una domanda Luca beh ci può essere la curiosità di vedere cosa c'è dietro io non ho mai letto i fumetti Marvel ho visto solo i film ma sono curiosa di sapere da dove nascono li leggerei proprio per scoprire nel 2715 reboot perché ho una curiosità culturale in te ma per il grande pubblico penso che non funziona veramente c'è un problema quello che Filippo solleva è effettivamente un problema di aspettative che si crea nello spettatore cioè io nel fumetto ho poi mentalmente bisogno di ritrovare le stesse cose che ho visto nel film questo tra l'altro non è proprio così facile perché non so penso adesso probabilmente non è proprio l'esempio più calzante però se penso a un Asterix e Obelix ok ne esiste sono stati fatti tanti film però qualunque film io veda se vado poi a leggermi il fumetto bene o male ritrovo tutti gli elementi con i supereroi è difficile la Marvel tenta ormai da anni di allineare modificare la linea editoriale dei fumetti in base a quando escono i film perché potenziali nuovi lettori possano trovare nei fumetti le stesse cose dei film però quei film tecnicamente si basano su altre storie altri momenti narrativi quindi è un gioco al massacro estremamente complesso difficilissimo da raggiungere per cui fai scontenti vecchi fan perché si sentono in qualche modo traditi quelli nuovi hanno sempre un po' quella sensazione di dire eh però non è come il film eh no non è come il film è un'altra cosa c'è il fumetto e c'è il film mentre invece quando parliamo di un anime effettivamente quindi di un cartoon manga il fumetto è come l'anime i disegni sono quelli il character design è quello parliamo sempre di grafica di disegni e nel fumetto ci sono più cose cioè paradossalmente è proprio un passaggio molto più facile come può essere un passaggio facile film libro perché non c'è nel libro non c'è il media visivo quindi se io vedo i film di harry potter e mi piacciono voglio leggermi i libri nei libri trovo delle cose in più perché nella narrativa la scritta così come nel fumetto trovo maggiori informazioni esatto però non ho questo problema dell'immagine che invece col film e col fumetto soprattutto poi con i prodotti americani è proprio lì è proprio qualcosa su cui è difficile è difficile uscirne bene ci sono altre domande? un'ultima che riguarda Francesco con le coloriste e le triste e non credi che sia anche finalmente questa reticenza a dimostrare che le coloriste e le triste sono delle artiste interi non sia anche fiscale perché finalmente il diritto dottore è una bella dica fiscale e darla a tutti potrebbe essere qualcosa che finalmente non va sull'interesse del Stato vuol dire ci può essere un bloccaggio forse molto materiale di dire no guardate va bene sceneggiatore scrittore e designatore che beneficcono di queste possibilità fiscali non parliamo adesso di tutti perché se no non li faccio così intelligenti cioè purtroppo mi sembra veramente un passaggio un qualcosa di troppo a cui non arriverebbero sono perverso essendo una componente grafica se la caverebbero con una tantum quindi anche le royalties probabilmente non ci sarebbero per cui no la vedo proprio come un'ignoranza totale del settore nel dire anche perché ripeto i promotori di quei progetti di riforma erano sindacati di fumettisti sceneggiatore disegnatore che non avevano nessunissimo interesse a mettere di mezzo altre categorie professionali perché stiamo parlando della nicchia della nicchia della nicchia questo è un problema questo è un problema che lo Stato sia arrivato a un'elaborazione così Filippo no 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 dovrebbero veramente essere delle menti sublime non credo sono un po' complotisto io sai il dato concreto mi delude il fatto che queste diatribe siano sempre poi delle guerre tra poveri situazioni di questo tipo ci siamo sempre c'è sempre così poco da dividere che meno siamo meglio però a quel punto viene meno tutto il meccanismo quindi sono d'accordo un po' con te Francesco su una sfiducia generale quantomeno in questo momento bene grazie a questo punto se non ci sono altre domande ringrazio domande hanno conversato ma anche gli altri presenti per essere rimasti fino adesso anche perché sono le sette quasi le sette e mezzo e non vi diamo crediti quindi per puro interesse alla materia visto anche l'interesse potremmo pensare nel futuro di organizzare un altro incontro magari dal vivo così Filippo ci fa vedere il confronto a cui accennava tra i diversi tipi di grafica Luca potrà approfondire la questione dei fumetti negli Stati Uniti e anche questi passaggi tra immagine stampata e immagine in movimento l'intervento giuridico verrà poi un po' approfondito perché Francesco e Marta per il prossimo numero di IP News del 2022 riverseranno la loro relazione in uno scritto un po' più con le cose che piacciono a noi giuristi cioè i riferimenti delle sentenze i riferimenti dei progetti di legge queste cose qui io anche da parte di Lorenzo a cui è caduta la connessione dieci minuti fa non è riuscito a riconnettersi quindi mi ha incaricato di porgervi anche da parte sua i ringraziamenti anzitutto agli ospiti esterni poi agli ospiti nostri di IP Giovani di IP e nello specifico di IP Giovani Marta e Francesco ringrazio veramente tutti voi che siete rimasti fino adesso ringraziamo i gatti presenti che danno sempre una vita e niente buona serata buon ponte di Sant'Ambrogio e ci vediamo presto